ok ragazzi ecco qua che sto finendo di mettere il costume di spiderman e quello di tom holland da far from home e on comic e poi una volta finito di mettere anche la testa abbiamo finito non si riesco a capire perché qui sopra non si chiude la zip e vabbè però il logo si vede qui nel retro comunque lo strumento è davvero straordinario e non vedo l'ora di vederlo una volta montato il tutto ok ragazzi ecco qua che ho finito di montare il costume di spiderman qui vabbè la testa è così perché non si trova oppure non ho messo bene la maschera vabbè forse l'ha piegata un po meglio comunque questo è il costume questa è la porta di dietro del film spiderman far from home e oncoming di tom holland il nuovo spiderman comunque e niente ragazzi mettete mi piace e commentate se iscrivete al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ok ragazzi sono riuscito a chiudere il costume per intero solo la maschera si appoggia sulla testa in questo modo non capisco per quale motivo comunque questo è tutto il costume di spiderman far from home e oncoming di tom holland quando utilizzato la tom holland questa è la parte di dietro ed è una cosa spettacolare ragazzi e niente mettete mi piace commentate e iscrivete al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video e niente ciao a tutti belli grazie a tutti grazie a tutti